Sabato alle 15 presso Piazzale Flaima a Verbania avrà luogo la manifestazione indetta dai giovani democratici per difendere i trasporti pubblici. I giovani DEM si pongono come obiettivo quello di mettere in luce i problemi riguardanti le inefficienze del sistema dei trasporti della provincia del VCO. La manifestazione ha come obiettivo quello di far capire i vertici di VCO Trasporti, Trenord e Trenitalia e il disagio degli utenti che usufruiscono dei servizi, tenendo conto di come più volte le aziende hanno minimizzato il tema dei ritardi e dei disagi, si legge in una nota. I giovani DEM chiederanno anche che vengano ripristinate le corse serali da domenica a giovedì, che sono state tagliate da VCO Trasporti. Non meno importante è il tema dei treni. Treni sospesi, sovraffollati, ritardi, condizioni pietose del materiale mancanza di cose sono all'ordine del giorno. Serve l'inclusione nell'abbonamento dei servizi pubblici lombardi. Queste le richieste principali per quanto riguarda il collegamento Domodossola-Milano. Per quanto riguarda la tratta Domodossola-Novara, verrà chiesta una più accessibile via di comunicazione tra la nostra provincia e Novara, aggiungendo e velocizzando le corse. Tale modifica porterebbe di conseguenza ad un collegamento per Torino, sostengono i giovani DEM.